Come si faceva il mezzanino e si faceva il palletto? Bascitti Chi è che si faceva il mezzanino? Quando si faceva il mezzanino e si faceva il palletto? Ma loro sono donne, cioè... Sono i muri? No, no, sono superiori Ma cos'è questo maschilismo? Io sempre... Ah, è vero! Noi siamo superiori Vuoi essere non umani? Anche La marica si scaccola Cioè, quando si riflisce a lui Mi capisco... Un uomo, un essere umano Cioè, non rifliscono un amico Ma li preparai un po' tutti? Sì Questa è la nostra riunione del giornalino Eee, fate un urlo? La gente che fa rontolato La gente che pagasse su La gente che lo stai scegliando O meglio la gente che muore La gente... Vuoi finta di morire? Adesso! Che arrivate su Matteo Che è il mio vocabolario E' un cazzo Basta Chiavita Dimi qualcosa? Qualcosa 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 altro? Qualcosa altro? Qualcosa di più, insomma Qualcosa di più, insomma Ma prova a impegnarmi Ma prova a impegnarmi Cazzo Cazzo Basta Mi occupi tutta la memoria Ma non tani col culo Credi di potermi allontanare col culo Aspetta, allora Simulo Uno sciacca E' una fidati Ok? Dai La bavetta La bavetta Basta Basta Fine Arrivederci